Angolo rosso di vicino Maurizio, angolo blu Lenti Alessandro di vicino Maurizio, angolo rosso Lenti Alessandro Angolo blu, a seguire Travagliati Simone, Neri Emanuele e ragazzini Filippo Mezzetti di Simone schermaglia schermaglia dai giralo solo sulla testa basta, basta, basta vieni la testa e abbassaci lenti gira prendila 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 vai lenti esci subito no 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 di spalle gira 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 verso di me verso di me così vai dai 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 calmo respira si ciao spingi spingi braccio spingi braccio spingi braccio non lo fai passare tanti ok ma il filo non è bassa e poi passa in santa si capiti questa notte ti devo prenderci fuda al gomito si avvicini al tatami Travagliati Simone, Neri Emanuele a seguire ragazzini Filippo, Mezzetti, Simone, Alcaldi, Alessandro e Emanuele con i secondi secondao sistemi sistemi di coproprio s vai riuscita sulla gamba e si si o no t시 la testa vai sulla testa ricomincia se hai riuscita si dai che punto Occhio quando spingi con i gomiti, guarda se riesci a passare, quando ti allontana fai guarda quando sai, quando senti spingi, ok? Prova la rappe, prova la rappe, chiusi, si, tenilo, tenilo così, tenilo, hai la pressione, vai sul braccio, vai sul braccio, tenigli il braccio, ok, basta, basta. Vai l'americana, americana su quel braccio, tienilo, tienili la testa, tienili la testa, così. Lavora su quell'americana, sì, così, tienilo, prova a girarlo, prova a girarlo. Fine del match. No, no, non è il nostro, vai. Atleti al centro per il verdetto, si avvicini intanto Travagliati, Simone, Neri e Emanuele, a seguire Ragazzini, Filippo, Mezzetti, Simone. Atleti al centro per il verdetto, vince. All'angolo rosso di vicino, all'angolo rosso di vicino, angolo rosso Travagliati, Simone, angolo blu, Neri e Emanuele. Incontro di kickboxing, incontro di kickboxing like. Sì, sì, vai, tira la testa, prendi la gamba, prendi la gamba. Attenzione, prego, il maestro arbitro Franco Zurlo, qui a bordo ring, a bordo della gabbia. Grazie. Se vedete al centro per il verdetto. Invece il buono ciclo, che è l'angolo blu. Ora ci sarà l'esegizione di full contact di Gerino e... Grazie. Grazie.